Per quanto riguarda lo sviluppo sul territorio della conoscenza del mio marchio e per quanto riguarda lo sviluppo e la conoscenza dei prodotti e poi ovviamente Valle Foglia Magazine sviluppa informazione sul territorio quindi su quello che è la zona del Valle Foglia che si sviluppa anche con tutti i paesi vicini, Montelabate e tanti altri e quindi sicuramente ritornerò a settembre sui magazine di Valle Foglia e sui magazine di Rossini TV. Vi aspettiamo tutti i giorni domenica compresa dalle 8.30 alle 20.